25esima mostra dell'artigianato a Guardiagrele che potrà essere visitata fino al 28 di agosto. Un punto di riferimento per l'artigianato abruzzese che qui si mette in vetrina. 52 anni di storia, di tradizione e al tempo stesso di innovazione. Quindi siamo diventati un punto di riferimento per gli artigiani, per il patrimonio culturale e artigianale della regione Abruzzo. Peraltro in una struttura che ormai è di proprietà. Struttura di proprietà acquistata dalla regione Abruzzo è diventata la sede di eccellenza dell'artigianato artistico abruzzese. Cosa è possibile vedere e ammirare venendo in questa mostra che si articola su tre piani ed è un'esposizione davvero ricca? Innanzitutto i manufatti degli artigiani abruzzesi che hanno capito l'importanza di questa rassegna e ogni anno portano all'interno di questo mese il meglio della loro produzione artigianale. Quest'anno abbiamo pensato, all'inizio sembrava un gioco, di dare come tema il gioco e i suoni dell'artigianato. E devo dire che questo tema ha stimolato la capacità e l'estro degli artigiani abruzzesi che hanno veramente preparato delle opere di rilievo da visitare in senso assoluto. Ceramica, lana, legno, i materiali base per i lavori. Però ci sono anche i pupi, le marionette e l'espressività artistica nel suo massimo fulgore. Sicuramente sì, sono tante le diverse tipologie e avendo come tema il gioco abbiamo pensato di dare omaggio al gioco, quindi alle marionette, ai pupi, alla giostra con i cavalli, ad un teatrino che è stato realizzato dagli artigiani e nel quale ci saranno anche delle rappresentazioni teatrali. Quindi tanti buoni motivi per venire a Guardia Grele fino al 28 di agosto con la possibilità di visitare la mostra dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23.00. Quindi un buon motivo per andare anche al mare, alla costa dei Drabocchi e al tempo stesso la sera venire a Guardia Grele.